Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori arieggiatori. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Enel 3420640. L'oigenazione è un trattamento che elimina lo spesso strato di foglie morte e depositi che non consentono al cantiere di crescere come dovrebbe. Per eseguito al meglio, evitando una lunga procedura di guida, è possibile utilizzare dispositivi come il prodotto Enel. La potenza dello scarificatore è di 1200 W e consente la pulizia dello spazio di lavoro di circa 300 metri quadrati, come risultato ottimale per i cantieri esclusivi. Al numero 4, abbiamo Boch Aller 900. Se sei ancora indeciso quale scarificatore acquisire ma sei un grande fan del marchio Boch, sarai più che felice di sapere che allo stesso modo costruisce grandi aeratori. Questa versione, in particolare, ci sembra il più riuscito e anche il costo leggermente superiore al normale e ampiamente compensato dalla meravigliosa qualità. Ha una grande potenza di 900 W, esaltata dal rullo all'avanguardia con 10 doppi prong di acciaio adattabile. Grazie alla visibilità delle aperture per l'aspirazione dell'aria. Al terzo posto, abbiamo la Black Pudecker GD300QS. Con un costo invece piccolo, è fatto per giardini di dimensioni non eccessive. Tuttavia, la sua potenza di soli 600 W non dovrebbe ingannare fa il suo compito completamente, anche se lotta un po' con una delle insiezioni più ostinate. È inoltre dotato di un cestello di raccolta, che a causa della quantità di prodotto trasferito ad ogni flusso la tendenza a compilare piuttosto rapidamente. Al numero 2, abbiamo il arieggiatore elettrico ALKO. Per garantire un prato stupendo, sano, equilibrato e faticoso, un cortile ha bisogno di una particolare terapia chiamata scarificante, da effettuare dopo il primo e l'ultimo taglio della stagione, al fine di prepararlo sia per la fase vegetativa che per quella invernale. La scarificazione del tappeto erboso gli consente di assorbire aria, luce e anche sostanze nutritive, mentre durante tutto il periodo estivo, d'altra parte. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il arieggiatore a benzina. Una buona opzione per coloro a cui non piace dover costantemente prendere atto dell'esistenza della linea elettrica e desiderano anche una potenza eccezionale 1300 W e numerose varianti di utilizzo. Questo articolo rimane in realtà in grado di eseguire sia la funzione di scarificatore rullo con 14 lame in acciaio, che scarificatore rullo con 24 molle in acciaio e consente anche di funzionare comodamente su aree superficiali che non superano i 1200 m2. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.